Nella chiesa dei Santi Priscani è il sindaco, un evento eccezionale, il ritrovamento e il ritorno a casa dei pastori. Sono tornati, i pastori sono ritornati a alliedare il nostro presente. Questo per noi è una giornata di grande gioia che io esprimo a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale che rappresento e a nome di tutta la comunità di Sant'Agnieri. Perché il ritrovamento di questi pastori è veramente qualcosa di eccezionale che ci riempie in questo periodo di Natale di una vera gioia. I pastori sono il simbolo della nostra tradizione cristiana, sono il simbolo del Natale, il simbolo di un mistero che ritorna. Ecco, quindi siamo felici, siamo felici e soprattutto vogliamo ringraziare il parroco, il vescovo, soprattutto i carabinieri che sono usciti nel ritrovare questi pastori. Ecco, oggi è anche un giorno oltre di gioia, un giorno in cui c'è il trionfo della legalità, della giustizia e quindi sono il Natale, la giustizia, la legalità, i valori in cui noi ci ritroviamo. Ritorno a un patrimonio culturale nel nostro paese. A un ritorno al patrimonio culturale, sono un patrimonio culturale. Speriamo che coloro che hanno commesso il reato siano perseguiti, che è un po' difficile, ma devono essere perseguiti perché questi gesti non dovrebbero mai succedere. E ringraziamo della gentiletta disponibilità del nostro carissimo sindaco, il dottor Pier Giorgio Sacristano, da Sant'Agnè, richiesto da Sant'Elbris, che chiudiamo per Mediaset Communication. Grazie.